Nomina da parte del segretario regionale Rapino di commissario ad acta per quanto riguarda il tesseramento e lo svolgimento del compresso del circolo di Alba Adriatica. Appena avrò tutte le informazioni e tutte le documentazioni necessarie per poter svolgere questo ruolo mi recherò ad Alba Adriatica e inviterò tutti a tesserarsi innanzitutto e a dare un contributo alla comunità del PD e ad Alba Adriatica. Io prendo atto delle decisioni dei vari organismi preposti dal partito, non aggiungo altro, il mio compito è quello di portare quanto prima al congresso quel circolo e quindi di rinnovare gli organi dirigenti.